Caccia, io non ce la faccio più. Basta, con i teatri pieni, gli applausi scroscianti, gli uomini che mi si buttano letteralmente addosso. Qui la gente pensa che io sono un pagliaccione, che faccio solo ridere, ma io faccio anche riflettere. Dobbiamo trovare un modo per farlo capire alla gente. Scriviamo un libro, sì, come ho superato le etichette. Lo intitoliamo da Michelona alla Giro. Michela, stai zitta, lascia perdere i libri. Se vuoi fare qualcosa di utile, quelli di ActionAid vogliono che vai a vedere i loro progetti legati alle adozioni a distanza. Ma certo, il mio destino è questo. Devo portare sollievo a chi è in difficoltà. Devo portare aiuto dove c'è bisogno. Devo farmi portavoce per chi una voce manco ce l'ha. Io salverò l'Africa. Michela, te hai visto i video che hanno fatto in Africa? Ma te non vai in Africa, vai in Asia. Hai capito? Vai a Kathmandu, la capitale del Nepal, che è in Asia, non in Africa, chiaro? Kasha, chiama subito un cameraman, che mica vado a fare del bene per tenermelo per me. Lo devono sapere tutti. Oh, coso? Via qua. Vede, sta concentrato, eh? Che non stiamo a riprendere i concertini degli amici tu a San Lorenzo, chiaro? Vai! Donnello, fa tutto da sola, è incredibile. Questa è l'Africa. L'Africa lontana dagli stereotipi. L'Africa dove non è che fa tutto sto caldo. L'Africa dove, pensate, non abbiamo visto neanche un leone o una zebra. L'Africa dei monumenti aurei. E adesso, ecco la referente di Action Aid che ci mostrerà in che parte dell'Africa siamo. Hello! In which part of Africa we are? Non siamo in Africa. Ci troviamo in Carpandu, la capitale del Nepal, in Asia. Capito mi che? Ma forse c'è un errore perché Action Aid lavora in Africa, non in Asia. Poi il problema con la lingua forse. Ancora che si parla benissimo. State zitto. No, there is a mistake because Action Aid working in Africa, not in Asia. Action Aid lavora in più di 40 paesi in Asia, Africa, America Latina. Il Nepal è presente da oltre 40 anni. Oggi ti porto a vedere la nostra scuola a Carpandu. Carpandu! Nepal! Everybody knows that we are in Nepal, the wonderful Nepal, no? Just see, no? Intorno. Ma tu lo sapevi che stiamo in Asia? E che mi hai fatto venire da più vicino con sto mattone? Io ti rovino, hai capito? Questa è la scuola costruita, anche grazie al Action Aid. E anche grazie al grande cuore di chi decide di donare che i bambini in difficoltà del Nepal possono sperare in un futuro migliore. Stop! Buona questa. Senti cosa, che me posso fare una foto con questi ragazzini così più 20k? Anzi, un video dove loro arrivano con le braccia tese come se io fossi una santa, eh? Adesso sono a lezione. Oddio, basta con sta lezione. Ma che dovranno imparare da sta cultura? Vabbè, senti cosa, che mi chiami la truccatrice? Come no? Che vuol dire no? Non c'è il trucco? No make-up! Ma sei impazzito? Io devo fare tutte le riprese con la faccia che sembro Plutone? Guarda, guarda la fine che ti faccio farmi. Poi è dove facciamo le lezioni. Namaste, sove, bai, bai, nero, lai. Questa è Michela, questa è un'unica, 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 questa è un'unica. Questa è un'unica. E poi, a volte, vi ringraziamo la scuola, non c'è un'unica. Ciao! Ciao! Namaste! Vedete questi bambini. Loro sono il futuro di questo paese. Loro sono il futuro del mondo intero e io sono qui per aiutarli a scrivere questo futuro. Buongiorno, bambini. Sono qui per illustrarvi un grande strumento del futuro. Le tabelline. Tre per due. Quanto fa? Basta prendere la calcolatrice, digitate tre, digitate x, digitate due, premere uguale. Sei. No, no, no. Non ringraziatemi. No, no, no. Sono... No, non mi ringraziare, caro. Sono io che ringrazio voi. Questa è una cosa. Questa è una cosa. qui si fanno dei sacrifici per il bene di questi bambini. Pensate, anche io ho rinunciato al cibo che avevo a disposizione per tenere da parte solo questa piccola porzione. Michela, questa è per rabbate. Sì, ho capito rabbate, però non è che posso stare qua a dare una mano e neanche uno spuntino posso fare. Io sono il talent, capito? Do you know Angela? The talent, the star, non è che... Ma che mi rubi il cibo dalle mani? Non lo fare mai più, hai capito? Non ti permettere. Tu non ti devi azzardare. Io ti rovino. Tu non sai che cosa posso diventare. È chiaro? Oh, e mo' me magno sto bel risetto alla faccia tua. Capito come? E questa sarei io. Nessuno mi aveva mai fatto un disegno prima. Grazie, mo' maia. E grazie a chi con l'adozione a distanza di ActionAid permette ai bambini come mo' maia di avere un'educazione e un futuro migliore in più di 40 paesi nel mondo. Adotta un bambino a distanza. Invece io me rimango qua in Nepal a darvi una mano. Sei contenta, mo' maia? Michela, aiutati a distanza. Non è necessario trasferirsi dall'altra parte del mondo per aiutare gli altri. Con l'adozione a distanza puoi cambiare anche tu la vita di un bambino. Grazie a te potrai andare a scuola e crescere sano e sereno all'interno della sua comunità. Da oltre 40 anni ActionAid realizza il cambiamento nella vita di migliaia di bambini in Asia, Africa e America Latina. Fallo anche tu. Adotta un bambino a distanza. Cambia per sempre la sua vita e anche la tua. Oh, scusa, scusa. Senti, prima che torno in Italia io vorrei aver insegnato qualcosa a qualcuno. Lo vuoi un consiglio sull'amore? Rispetto alla mia privacy. Non vedi che è proprietà di linguaggio sti ragazzini? Mica come te che fuori dall'accordo non te capiscono. Senti, sai che ti dico? Michela? Eh? Mi hai stufato e riprese fatte da sola. Ciao. Stamme bene? Ciao amiche. Come statti bene? Ma che sei impazzito? Ma io te rovino, eh? Ti rimando a fare sacre. Ma che sei impazzito?